Nonostante una squadra che è stata largamente modificata rispetto alla passata stagione, nel Calatabbiano una delle certezze da cui si riparte continua a chiamarsi Dario D'Antoni. Il portiere è stato uno dei grandi protagonisti del salto in promozione nella passata stagione. Le sue parate sono uno dei suoi viatici per rendere positiva anche la stagione che sta per cominciare. Siamo andati bene in Coppa, avevamo questo obiettivo, l'abbiamo raggiunto, di passare il turno. Siamo felici di questo, ovviamente adesso ci aspetta il campionato sperando di fare il massimo e cercare di fare i più punti possibili e trovare il prima possibile la salvezza. Anche per te questa è una stagione importante. Come hai scelto Calatabbiano? Tu solitamente hai sempre tante richieste, sei uno dei portieri più gettonati in promozione. Io ho fatto questa scelta già dall'anno scorso, quindi sono sceso di categoria perché qui a Calatabbiano c'era un progetto importante e ci siamo riusciti. L'anno scorso a fare il salto, dopo 35 anni che il Calatabbiano ha provato a salire di categoria, ci siamo riusciti. Quest'anno cercheremo di fare il massimo con l'entusiasmo comunque di una piazza che ha voglia e ha fame di calcio, quindi sono felice di essere qui. Infatti in estate sono state molte squadre che mi hanno chiamato, però già da giugno sapevo quali erano le mie scelte.